Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial. In questo video vi spiegherò come passare da scene a video in PyBall. Se non sapete come creare delle scene, vi rimando all'ultimo video che ho pubblicato dove spiego in dettaglio come creare queste 5 scene che utilizzeremo come base per poi creare il video ed esportarlo e inserirlo all'interno delle nostre presentazioni. Bene, adesso andiamo a vedere come generare il nostro video utilizzando le scene. Voglio precisare una cosa, quando si generano video con PyBall bisogna ricordarsi che ogni secondo di video che noi vogliamo generare corrispondono a 30 frame. Quindi questo significa che se vogliamo creare un video di 20 secondi abbiamo bisogno di 600 frame. E perché questo è importante? Perché nella prima fase, quando andiamo a generare il nostro video, dobbiamo inserire il numero di frame totali in cui vogliamo registrare la nostra molecola. Quindi questo significa che se io voglio un video di 20 secondi devo generare 600 frame. Per fare questo utilizzerò la funzione mset 1 per 600, darò l'ok e quello che succederà è che in basso a destra, qui, mi compariranno il numero di frame generato, come potete vedere 600. Ovviamente nella fase iniziale io mi ritrovo nel frame 1. Cosa voglio fare in questo frame 1? Voglio essenzialmente salvare quello che è la scena numero 1. Per salvare la scena numero 1 nel frame numero 1 dovrò ovviamente selezionare la scena in basso a sinistra e successivamente salvarla. Per salvarla utilizzerò la funzione mviewstore a cui poi ci associo il frame, il numero del frame a cui voglio associare questo stato di visualizzazione. E quindi in questo caso 1. Nel momento in cui io faccio questa operazione, in basso mi comparerà una barra che corrisponde a tutti i miei frame e qui potrò vedere dove ho salvato cosa. Quindi in posizione numero 1, al frame numero 1, troverò ovviamente la scena numero 1. Adesso però ci muoviamo alla scena numero 2 e voglio salvare questa scena per esempio nel frame numero 150 che corrisponde quindi a 5 secondi di video. Per fare questo seleziono la scena numero 2 e andrò a scrivere e utilizzare mviewstore 150. Quindi vado a inserire il frame all'interno del cui questa visualizzazione verrà salvata. Do invio e come posso vedere qui compare una seconda bar che mi dice che in quel posto ho salvato questa visualizzazione. Posso utilizzare il tasso play in basso a destra per vedere come nei 5 secondi si passerà dalla scena 1 alla scena 2. Quindi adesso ci troviamo in scena 2 e nel frame 150. Per esempio in questa posizione voglio una rotazione di 360 gradi in modo tale che la molecola si veda in tutta la sua struttura. Per fare questo posso utilizzare la funzione turn quindi turn y e scriverò 180. Quindi quello che andrò a fare è prima ruotare la molecola di 180 gradi salvare quella posizione in un determinato frame e poi ritornare nella sua posizione originale per completare la rotazione. quindi io farò turn y 180 come potete vedere immediatamente la molecola ha ruotato di 180 gradi e salverò questa conformazione in un frame in una posizione di frame che per esempio è la 180. Do invio e come possiamo vedere qui è ricomparso essenzialmente la bar che mi indica che ho settato correttamente questo nuovo stato nel frame 180. Adesso quello che farò è riutilizzare la funzione turn y 180 per ritornare alla posizione precedente e questo lo salverò nella frame per esempio 210 gli do invio e come posso vedere qui è comparsa l'altra la successiva bar che mi indica che ho salvato correttamente nella posizione 210 questa 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 visualizzazione adesso per esempio se io ritorno al frame numero 1 e do invio vedo come il mio video sta prendendo forma quindi da scena 1 passo a scena 2 e faccio poi una rotazione di 180 gradi una volta che sono arrivato alla rotazione di 180 gradi alle due rotazioni di 180 gradi essenzialmente posso passare alla scena 3 la scena 3 mi va a visualizzare questo amminoacido e voglio quindi poi salvarlo in in un frame che è essenzialmente 300 quindi andrò a scrivere mview store 300 ed ho invio qui in basso è comparso la barretta che mi indica che ho salvato correttamente il questa scena nel nel frame desiderato se ritorniamo indietro di nuovo al frame 1 possiamo vedere come essenzialmente da scena 1 passiamo a scena 2 con una rotazione di 180 gradi e poi passiamo essenzialmente alla scena 0 3 poi successivamente vorrò ritornare alla scena 4 e la salverò per esempio a frame 400 e poi tornerò in postazione in scena 5 e la setterò essenzialmente al frame 600 così fatto essenzialmente ho generato un video utilizzando le scene ed essenzialmente integrando anche alcune funzioni come quella della rotazione sull'asse y adesso andiamo a vedere il risultato finale diamo play e vediamo come da scena 1 passiamo a scena 2 una rotazione di 180 sulla scena 2 ci avviciniamo al nostro amminoacido ritorniamo in scena 4 che è la posizione precedente e piano piano ritorniamo alla scena 5 che essenzialmente è la visualizzazione della molecola per intera come potete vedere se questo lo inseriamo nella nostra presentazione così fatto possiamo generare un loop perché ritorniamo sempre allo stato di partenza voglio ricordare a coloro che magari non hanno seguito i tutorial precedenti che una volta generato il video all'interno di Pymon per esportarlo sarà necessario andare nella sezione file esportare video come mpeg selezionare la risoluzione che desideriamo e poi salvare il video all'interno di una delle cartelle del nostro computer fatto questo il computer ci genererà i 20 secondi di film che abbiamo composto all'interno di Pymon